Si avvicina l'appuntamento del 26 maggio, sono già partite le grandi manovre nelle varie coalizioni per individuare il candidato sindaco nel centro-destra, Luigi Alboremascia è in campo? Non è un mistero, sono in campo perché me lo chiedono le persone, perché me lo chiedono i cittadini, gli elettori di centro-destra, sono in campo perché ritengo di potermi rimettere al servizio della città, sempre con umiltà e con quel po' di competenze e di esperienza maturati durante un mandato di 5 anni intenso come quello intercorso tra il 2009 e il 2014. Le due coalizioni più importanti, quella di centro-destra e centro-sinistra, hanno articolato un dibattito interno come è normale assolutamente che sia, non ci sono divisioni ma ci sono confronti, ci sono ragionamenti e ci sono anche valutazioni di carattere programmatico sulle esigenze della città che vengono confrontate anche in queste circostanze. La mia lunga esperienza politica mi ha insegnato ad essere generale come sono stato ma anche a rientrare nei ranghi ed essere soldato per il mio partito che è Forza Italia e per la mia coalizione che è quella del centro-destra. Prosegue la ricerca di un nome, di un candidato unico per il centro-sinistra in vista dell'elezione del nuovo sindaco di Pescara, a che punto siamo? Si sta lavorando con tutta la coalizione, insieme sarà una decisione presa, condivisa da tutti i componenti della coalizione, con pari dignità e per cui si sta lavorando in questo senso. Adesso escono dei nomi come è normale che sia, ogni tanto di giorno in giorno escono alcuni nomi, alcuni che hanno un fondamento, altri no, messi un po' a caso, ma insomma si sta andando avanti e credo che nel giro di pochi giorni, come giusto che sia, si definirà e decideremo quale sarà il candidato. C'è anche il suo nome in Lizza? Il mio nome è a disposizione, come sempre, del mio partito, qualora dovesse servire, non ci sono problemi, ma l'orientamento è quello di andare oltre il partito democratico, quindi questo è un po' l'orientamento. Se dovesse in qualche modo ritornare all'interno del partito una scelta è chiaro che la mia disponibilità, come quella di altri, c'è sicuramente.